ciao a tutti e a tutte benvenuti nel mio primo video io sono una mamma e sono un amante del makeup non sono una makeup artist ma mi piace molto truccarmi non trucco nessuno non trucco le mie amiche non trucco nessuno ma mi piace truccarmi mi piace truccarmi per me stessa ho voluto iniziare questo percorso perché oltre la passione per i trucchi mi piacerebbe trovare persone con le quali scambiare idee e anche makeup, idee di makeup ultimamente da poco io sono una mamma non so se già l'ho detto di due bambini la mia prima figlia ha dieci anni e si chiama viola il secondo ha un anno e mezzo quindi immaginate che la mia giornata si divide tra bambini e casa sto molto tempo a casa e molto tempo me lo prendo anche per me per la mia passione ultimamente ho visto molti molti video ultimamente nell'ultima mesata quando ha come ricominciato a scuola sul back to school riferito alle ragazze ragazzi che comunque rientrano a scuola invece nella mia mentina pensavo ma il back to school per noi mamme perché voglio dire è vero io vedo tutte queste mamme super bellissime con i capelli super fatti la mattina mi sveglio non ho voglia nemmeno quasi di mettere la tuta proprio allucinante quindi ho pensato a un trucco super veloce da fare in tre secondi 5 minuti diciamo per andare quantomeno il più discretamente possibile davanti a scuola fatta la nostra skincare routine mattutina ci dedichiamo al make up benissimo logicamente il tempo è pochissimo e vogliamo renderci più credevoli possibili la prima cosa logicamente che già avremo fatto sarà stata tirare indietro i capelli l'idea di un make up veloce me lo danno anche i prodotti più facili da utilizzare come primer giusto per far sì che la pelle non si uccide eccessivamente sto utilizzando della mic il bler stick è un prodotto facile da utilizzare un po antipatico perché quando lo dovete non stappare la mattina ci vuole mezz'ora non adesso logicamente adesso mi si è aperto subito però il tappino deve essere sempre rimesso per far sì che il prodotto non si secchi all'interno quindi una volta applicato su tutta la sulla sulla base soprattutto nei punti che hanno più facilità a lucidarsi come la zona t la zona t e le guance ci dà una mano così a tenere opacizzata quella zona soprattutto a chi ha la pelle più grassa chi ha tempo magari può mettere nelle altre parti del viso una base più idratante ma logicamente io la mattina vado super di forza e la stop qui la cosa fatto questo metto un fondotinta un fondotinta abbastanza abbastanza low cost perché per tutti i giorni non ho bisogno di un fondotinta che abbia una riuscita di 24 ore sto usando il fresh and fit di essence io lo sto utilizzando nella tonalità 20 non so se questo fondotinta lo stanno togliendo dal mercato ho sentito due persone che dicevano che asserivano questo si può stendere sia con il pennello io utilizzo molto molto spesso il 104 della zoeva buffer oppure con una spugnetta questa in particolare è di nabla a volte quando un po più tempo lo stendo con il pennello per poi passarci sopra la spugnetta e renderlo così più omogeneo ok messo il messo il fondotinta possiamo togliere le strisciate se sono rimaste con la beauty blender aiutarci con di blender e poi continuare con il correttore step fondamentale perché per tutti la mattina perché assolutamente aiuta a dare quell'aspetto più radioso che noi tutte cerchiamo il cancella età di mini pelin nella colorazione 01 light lo stendo con la spugnetta questa qua in particolare mi piace perché ha questa forma tagliata nei tre lati e mi accompagna il bene sotto l'occhio sul naso accompagna un po tutte le zone del viso se vi interessa tutti i prodotti che sto utilizzando li metterò in descrizione anche nella colorazione perché a volte io vedo dei tutorial e mi piace mi identifico un po con quella persona che vorrei sapere la colorazione del prodotto che stanno utilizzando per fissare il correttore a questo punto abbiamo due alternative o la cipria in polvere libera come questa di jeffree star che sto utilizzando nella colorazione fair oppure abbiamo le palette le palette dove come questa di smashbox la cali la cali contour che nella quale troviamo dalla cipria una cipria prevalentemente gialla con con anche delle terre e dei blush un blush terre e due illuminanti questa palette è veramente molto performante e diciamo che sia per viaggiare se uno deve andare da qualche parte anche un fine settimana è comoda c'è tutto e soprattutto per chi non ha una pelle eccessivamente lu che si te che tende a lucidarsi io porterei via questa per la mia tipologia di pelle perché ha una pelle più grassa sicuramente utilizzerei una cipria in polvere libera come questa di jeffree star o altre mille che sono in commercio per far sì che la pelle poi non si riusciti troppo durante la giornata per quello per quello che serve a me va benissimo una cipria compatta un velo a questo punto che siamo totalmente senza più nessun come un foglio bianco diamo un po di vita dando ridando le zone d'ombra prendo dalla cali contour il la prima terra la prima terra e traccia il mio contouring perché ha la fronte molto alta consiglio di di dare un po di ombra anche in questa zona così da sembrata abbassare un po la fronte e soprattutto porto quello che rimane sul pennello e lo porto anche sotto il collo con un pennellino più piccolo con un pennellino più piccolo questo qua è il e 40 di sigma prendo sempre una terra una terra fredda è la stessa così utilizzato per fare il contouring e mi faccio il contouring al naso con lo stesso pennello visto che la mattina vado super mega di fretta traccio anche la piega del mio occhio in maniera tale da aver già fissato la linea guida del trucco che sarà praticamente questo poco di più in maniera tale però da dare vita all'occhio riscaldiamo il contouring con un blush avendo ridato le ombre al volto ora cerchiamo di dare un minimo di lucentezza all'occhio per poi mettere un pochino di mascara un lucida labbra e abbiamo terminato avendo ora ridato le ombre al volto possiamo sempre prendendo la stessa palette con uno dei due illuminanti centrali metterlo sulla palpebra mobile così da dare la stessa funzione di un ombretto così da non dare da non appesantire l'occhio la mattina molto presto però risultare sveglie sul pezzo a questo punto da messo proprio un velo di ombretto mettiamo un mascara un mascara che apre sicuramente lo sguardo io adesso mi sono acquistata questo qua dell'oreal mega volume mist baby roll non so come performa sicuramente la prima volta non sarà dei migliori perché come tutti i mascara devono essere aperti da un po di tempo per dare il meglio per dare per dare la possibilità al prodotto di diciamo togliere della parte più liquida però vediamo un attimo già dalla prima applicazione come ci troviamo questo mascara come prima applicazione non è male logicamente lo testerò e vi dirò poi in seguito come mi ci sono trovata se mi volete seguire su instagram mocio leonora per finire questo trucco semplicissimo utilizzare un lip gloss in questo caso utilizziamo di Fenty Beauty il Gloss Bomb Fenty Blue molto semplice nella nuance più famosa che però da quel poco di colorito alle labbra e comunque ha una buona durata per essere un gloss con l'indossato un attimo che mi sistemo i capelli e ci rivediamo subito eccomi di ritorno spero che il trucco vi piaccia un trucco molto semplice sicuramente molto basico ma giusto per uscire di casa presentabili per accompagnare i nostri figli a scuola o per fare tutte le compiere e le varie commissioni che dobbiamo fare per casa io vi lascio nel box informazioni tutto quello tutti i prodotti che ho utilizzato spero che vi faccia piacere vi faccia piacere seguirmi se è così iscrivetevi al mio canale mi piacerebbe anche che mi facesse delle domande soprattutto per farmi delle idee su cosa possiamo parlare ciao a tutti grazie per la visione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti